Ciao a tutti, oggi prepareremo il frullato di kiwi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono kiwi maturi tagliati a pezzetti, zucchero che potete sostituirlo anche con lo zucchero di canna, ghiaccio, succo di mezzo limone, foglioline di menta per decorare. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungiamo i kiwi, i gubetti di ghiaccio. E il zucco di limone. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 9. Il frullato è pronto. Versiamolo in dei bicchieri e guarniamolo con foglioline di menta e cubetti di ghiaccio. Frullato di kiwi. Si conserva in frigo per 1-2 giorni. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.